La montagna è piena di imprevisti, il tempo può cambiare molto rapidamente, anche se è previsto il tempo, può arrivare il temporale, magari di breve durata, ma magari con la grandine. Conoscere la montagna, fondamentale quando si decide di avventurarsi in passeggiata, non è una questione di quota, troppo spesso, come conferma il direttore sanitario del servizio Pedemontano Emergenza, già direttore del suo MD Pieve del Grappa. Sono chiamati a soccorrere turisti che affrontano le montagne in zoccoli e ciabatte, fermati dalla caduta di massi o incapaci per stanchezza di proseguire. È capitato parecchie volte anche quest'estate, si avventura e poi si ferma, non ce la fa più, chiede aiuto pur non avendo nessuna patologia. Questo significa che non si è preparato. Nello zaino non devono mancare poche cose, ma fondamentali. L'acqua è indispensabile nello zaino, come pure una piccola giacca a vento o qualcosa, soprattutto se si prevede di fare percorsi lunghi su versanti, in parte esposti a sud, i mari in parte esposti a nord o in parte dentro le valli. Tra i pericoli della montagna anche l'affollamento che già si inizia a registrare. La montagna sarà affollatissima, anche nei cieli e anche qualche giorno fa c'è stato un incidente da volo libero in cui due ragazzi stranieri, per evitare lo scontro tra loro a pochi metri da terra, hanno fatto delle manovre un po' azzardate e uno si è fatto male, anche discretamente. Questo perché siamo in tanti che frequentano la montagna, soprattutto adesso che viene caldo. L'appello alla preparazione segue quello rivolto ai giovani. Il servizio, che eroga corsi di primo soccorso, cerca volontari. Per diventare volontario del soccorso, i corsi sono due, base e avanzato, con diverse ore di tirocinio. Servirebbero giovani e giovani non ne abbiamo tantissimi. Ho notato una cosa nell'ultimo corso, che si offrono molto di più persone che hanno una sessantina d'anni rispetto a persone giovani, studenti per esempio, che potrebbero benissimo dare una mano.